Attenzione! Da questa sezione del treno non è possibile scendere a Iselle di Trasquera. Marciapiede è troppo corto. I viaggiatori diretti a Iselle di Trasquera sono pregati di spostarsi nelle due sezioni anteriori del treno. Achtung! Kein ausstieg aus diesem Zugteil in Iselle di Trasquera. Der Perron ist zu kurz. Reisende nach Iselle di Trasquera steigen bitte in die beiden vorderen Zugteile um. Attention! There is no exit from this part of the train at Iselle di Trasquera. The platform is too short. Passengers traveling to Iselle di Trasquera, please move to the two front parts of the train.